All'agriturismo Cadurici, qui all'entrata c'è proprio la piastrella che dice la cucina di Manuela, quindi spieghiamola un po' che cos'è questa cucina di Manuela. È una cucina tipica ligure, con quelli che sono i nostri prodotti del nostro orto, quindi della nostra campagna, prettamente appunto fagioli, vietole, patate, la nostra frutta, principalmente le nostre ciliegie, che sono il nostro prodotto principale, cucinati e preparati nella maniera più tradizionale e più tipica possibile. Le ciliegie arriveranno tra un pochino, invece adesso però si possono trovare questi particolari fagioli. I fagioli gianetti, che sono dei fagioli tipici della Valpennavaire, che sono particolari perché sono veramente molto delicati, si prestano a diverse preparazioni, proprio per la loro delicatezza, hanno questa buccia molto delicata, che praticamente fa sì che questo fagiolo in diverse preparazioni e cotto, soprattutto, praticamente si sciolga proprio in bocca. Quanti i posti per poter venire qui, se sono anche all'esterno? Abbiamo una terrazza esterna per, diciamo, le serate estive, abbiamo una sala che può ospitare intorno alle 30-35 persone al massimo e mentre veniamo in terrazza possiamo arrivare ancora a una quarantina. Fuori abbiamo visto anche un'area di giochi per i bambini. Sì, c'è un piccolo giardino con appunto una piccola zona attrezzata per i bambini, con appunto uno scivolo, comunque insomma qualche gioco anche per loro e massima sicurezza perché comunque appunto siamo vicini alla strada ma comunque assolutamente protetti, quindi anche pensare alla tutela anche dei piccoli insomma. Il piatto che la gente vi chiede di più? Sono due direi, i ravioli tipicamente e il conigliolo a ligure della mamma.